Kent, l'elefante! Ciao, sono Kent, l'elefante! La la la, la la la! Oggi facciamo un gioco divertente, chiamato Raccogli la frutta dal treno della frutta! Sì! Ho la mia lista speciale di raccolta della frutta Apriamola! Abbiamo ananas per prima cosa! Forza, andiamo! Sì, saliamo sul treno della frutta! Aspettiamo il semaforo verde E andiamo! Wow, è divertente! Non vedo l'ora di arrivare al campo di ananas! Eccoci! Forza! Aiutatemi! Prendiamo la cariola e raccogliamoli! Yeee! Eccoli nella mia cariola! E sul treno! Partiamo! Torniamo alla stazione della frutta! Ciuff, ciuff, ciuff! Arrivati! Eccoli! Wow! Spuntiamoli dalla lista! Cosa c'è dopo? Mele! Andiamo a prendere le mele! Eccoli sugli alberi! Eccoli sugli alberi! Giusto! Le mele crescono sugli alberi! Prendiamone alcune! Mmm, che buone! Torniamo alla stazione della frutta! Mettiamole qui! Perfetto! Tic! Cosa c'è poi sulla lista? Sì! Le angurie! Ecco il semaforo verde! Andiamo! Dove crescono le angurie? Sugli alberi? Crescono per terra! Guardate! Eccoli lì! Aiutami a prenderle! Sono così pesanti! Sono forte! Posso farcela! Guardatemi con le mie forti braccia da elefante! E ora si torna alla stazione della frutta! Wow! Così divertente! Eccoci! Vanno proprio lì! Possiamo spuntare anche queste dalla lista! Ora cerchiamo delle arance! Partiamo! Guardate! Le arance crescono sugli alberi! Proprio come le mele! Wow! Io le adoro! Mettiamole qui! E ora dobbiamo trovare delle fragole! Il mio frutto preferito in assoluto! Che bel colore rosso che hanno! E guarda! Crescono nei cespugli! Le adoro! Torniamo alla tazione! E possono andare qui! Sì! Possiamo depennarle! E abbiamo finito con la lista! Ottimo lavoro! E grazie per l'aiuto nella raccolta della frutta! Non vedo l'ora di mangiarla! Yeee! Alla prossima! Iscriviti al canale! Kent l'elefante!